... Avete entrati, no? Ti pare di sì. Velen! Oh! Avete entrati, no? Sì! Ah, ecco. Fatemi sentrare, se avete... Ciao, Velen. La sala forse mi hanno detto che ti è arrivato. Ho venuto con un'ora. Entrati? Sì. Visto. Ciao. Chi c'è? Niente, amici. Allora, dimmi. Sì. Cioè, io niente ce l'avevo preso. Sì. Eh! Ma non dovevi uscire oggi? Ho cambiato idea. Ah. Allora, dimmi. Eh. No, niente, cioè... Ti dispiace se è giunto la porta? C'è Corrente. Allora, dimmi. Senti, scusa, ci sono dei problemi? No. Credevo ci fossero dei problemi. No, perché? Cioè... Ma, così. Dimmi. Ok. Niente, noi siamo... Cioè, sono venuto qui... No, scusa. Ti dispiace parlare più piano? No. Sì. Ma... Scusate. Scusate. Dunque... Cioè... Dunque... Ma ci sono dei problemi? No. No. Niente, non ci sono. No, ok. No, mi sembrava... Comunque noi siamo venuti... Siamo venuti per... Cioè, lei, no? Cioè... No. No, io no. Cioè, ho visto te che tu... Comunque, lei è matta. Piacere Sabatini. Noi siamo venuti... Cioè, è successo un po' una cosa... Non so se andiamo a spiegare... Ma non è che ci sono dei problemi, no? No. No. No, ti vedo un po' di nuovo... Non so, insomma. Ma dimmi. No, ok, vabbò. Sei aperto da solo. Allora, dimmi. Sì. Cioè, tu hai pazienza per... Qui è sempre... No, no, non c'è problema. No, ti preoccupare. Dimmi. No, ti dicevo. Vi porto qualcosa da bere? No, grazie, signora. No, grazie, signora. Non ti stavo dicendo. Niente proprio niente? Sì. No, grazie, signora. No. Dimmi. Sì. Niente, insomma, ti volevo... Io vi faccio un caffè. Lo volete anche voi? Non ti preoccupare. Ma non c'è che... Se potevano mangiare una mela, gli ho detto di sì. Vero? Allora lo porto a te un bel caffè. No. Grazie. Preferisco mangiare una mela anch'io. Bene, io intanto lo faccio, se qualcuno lo vuole. Dimmi. Dimmi. No. Ti volevo dire no. Io ti ho accesso la doccia. Poi ti faccio il bagno, eh? Amore, sei la mia pagina. Dimmi, dimmi. Che ne dici? Poi. Che niente, non sei la mia pagina. Lì, da一點, non sei la mia pagina... Inmi.